I tempi si dilungano, non capiamo neanche i motivi, dovevano partire con le opere complementari dei viadotti e attualmente sono fermi. Questa cosa è estremamente preoccupante, soprattutto verso il periodo estivo. Non c'è più tempo sul tratto maledetto della 4, segnato in poche ore da 5 incidenti che solo per caso qualcuno potrebbe dire miracolo, non hanno provocato vittime. I primi due verso le 8, tra Sanstino e Cessalto, con diversi mezzi pesanti coinvolti, anche un canyon che ha perso il carico di carta. Poco dopo le 10, il più grave all'altezza di 90 di Piave, con un maxitamponamento tra tira in direzione Trieste, due feriti sul posto anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Imponente la mobilitazione con la chiusura per diverse ore del tratto verso Trieste, pesantissimo l'effetto domino sulla viabilità interna, trassando Nadi Piave, Cessalto, a cavallo tra Veneziano e Marca, il caos, così all'incrocio di Cassagra, dove la polizia locale ha deviato il traffico pesante. Alle 13, quarto incidente a Meolo, con un autista che non si è accorto della coda presegnalata dai pannelli e ha perso delle lastre di marmo. Anche qui tanta paura, ma nessun ferito. Copione simile dopo le 16, tra Sanstino e il nodo di Portogruaro, con un ferito lieve. Ed è da questo angolo di Veneto orientale, a ridosso con il Friuli, che parte un appello ai governatori Zaia e Fedriga. Io penso sempre che sia la regione a dover coordinare questo sviluppo. È lei l'ente preposto e sono le due regioni proprietarie dell'ente gestore, pertanto che siano loro a muoversi verso questo tratto. Ad aggiungersi anche Paolo Bolla, titolare dello storico bar di Cassagra, proprio all'incrocio. È una vita che chiediamo che facciano sia la strada, sia le strade e sia l'autostrada. È l'unico tratto dove i lavori sono fermi. Hanno fatto da Sestino in avanti e qua non hanno fatto niente. Diventa un imbuto questa autostrada. Diventa un tratto della morte, purtroppo.